insieme a anche un ospite che non fosse mai visto nel mio canale ovvero itapro per favore fatemi skippare non mi interessa itapro, itapro, c'è quello sono io ah, parla itapro, ciao io ti sto spammando e fai lo stesso, ok? quindi questo signore dice qualcosa ma a me non mi interessa quindi per favore skippate può skippare? e io non può skippare perché io si è bagato il telefono perché noi ci chiamiamo dal telefono e c'era tutto verticale io sono riduato da un computer e dai levalo, non ci interessa questa scena skippa, skippa ho skippato ho skippato? ok ah, eccole, buongiorno loro sono tornati con che muovenza soprattutto green e sarà divertente da lì c'è due vado a prendere gli altri ma chi gli altri? tu gli altri mamma mia oi oi e là cavolo sono light bulbs oh ma il nuovo capitolo che figo ci sono le porte che si aprono sembriamo nel futuro oh mio dio che figata la cassa di l'osso io ho già un po' visto la mappa da qualche cioè mi sono andato ad informare ed è enorme se non mi sbaccio dovrebbe essere proprio enorme gigante oh sono stato salito oh mio dio oh mio dio ti prego green c'è green ma cosa è quel coso? lo posso toccare? ciao ciao posso toccare questo coso? posso? no non posso non posso toccare il coso non posso un po' ma perché non si può passare? ragazzi mi sono bloccato ragazzi mi sono bloccato aiuto la mia ex ti prego aiuto prendo la macchinina ma c'è green qui dietro ma c'è green ho trovato la macchinina io ho paura di green mi stava guardando ho trovato una macchina ah ma c'è una porta qui che c'è qui dentro? così sopravvive mamma mia ragazzi non so per voi ma qui siamo al siamo al lito e proprio c'è un freddo cane e sono molto non capisco no 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 c'è blu c'è blu no 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 c'è freddo c'è freddo devo ricominciare da capo no no e da bu di da bu da da bu di da bu da un bungalow zips è manso per more messo lì ma arriva cinque minuti ah l'hardboard ecco ora ce la fanno vedere finalmente l'hardboard io guido con la scatola ora si vede almeno non so se sono rientrato no rip il tato scherzato cos'è sei morto no penso sia impossibile giocare dal cellulare in verticale no 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 di prendete questo maledetto pezzo pezzo di pezzo tu sei un pezzo di pezzo aiuto aiuto scappo scappo puoi mandare qui ah giusto ho detto il suo vero nome mi ero scordato che si poteva usare la scatola e io ho anche il drago bellissimo oh mio dio non sono mai andato più avanti di così ma dai ma c'è il coso di blu felice hey did you hear non ho capito niente aspetta che c'è che la piccola sta affucinando ma che vuol dire c'è la caccia una luce no ho visto blu ho visto blu ho visto blu ok scatolatevi scatolatevi ma quello non sono io ma perché io sono così quello non sono io che ma quello non sono io dai ma mi stanno copiando l'outfit babe forse questo ti aiuterà come? a scappare da qui oh mio dio questo qua è giallo è giallo è giallo è giallo ma non è così giallo è giallo fluo è verde fluo è quello perduto è verdallo fluo cioè sembrava verde e poi fanno fare un po' più chiaro e poi non vedo l'ora di arrivare nella parte del labirinto di purple pochissimi comunque ita pro cioè ogni volta mi confio ita troppo e secondo mi arrampico che belle armi io voglio arrivare subito in questo momento al labirinto di purple perché è bellissimo bellissimo con delle cose oh mio dio cos'è sto coso cos'è ma cos'è scusate ragazzi ma per alcune cose mi fisso troppo no 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 potrei morire potrei morire no 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 cammita cammita qua oh mio dio che freddo che freddo che freddo salgo qui ma io voglio vedere il giallo e poi finalmente è ufficiale almeno ufficiale qui oh mio dio c'è purple c'è purple ho visto purple ho visto purple c'è purple sto volando oh green green c'è la purple oh mio dio le mani le mani le mani guarda 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 no 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 dai e mi sa che devo cambiare e vabbè aspetti se ho vissuto fino alla 2 e io devo fare una volta a partita devo avancenarmi no no non a zero ti puoi esci rientrare il gioco perché ti vedo abbastanza bagato se facciamo due partite diverse così almeno cambiamo un po' no eh sì almeno possiamo vivere delle esperienze questo qua ha una cassa di banali e invece questo eh eh e non sono uno scioppone devo risolvere ancora il bug non sono uno scioppone scioppo pochissimo che forse non lo manco mai scioppare scavalcando la recensione ok ragazzi questa parte ve la schifo ok ragazzi sono tornato a registrare perché vi siete saltati un lunghissimo periodo di attesa dove quel scemo di rosso continuava a parlare senza che nessuno gliene fregasse e magari ora non scherzo più con purple almeno non mi voglio far uccidere ok ci facciamo mamma tu sei proprio pazzo grazie poi faremo altri video insieme sia sul suo che sul mio canale quindi io spammerò di lui cosa sono questi umori ma se su youtube per caso ma sta giocando con me ancora comunque vi ricordi che nel dì o il 16 giugno sarò su roplex verso le 10 10 di mattina o di pomeriggio? vediamo la mappa giro del carrello intorno al niente entrerò ovviamente in diversi eh però intendo ma 10 di cosa? 10 di mattina eh ma che che si sveglia così presto? manco gli youtuber ecco dove si mettono le cose simpatico manco gli è sfresciuta alla raga no no posso lo stai qua è il coso di purple no ma tu smetti di stare su youtube purtroppo almeno entra su roblox anche se stiamo in dei posti differenti purtroppo oh mio dio ci sono i kart voglio giocare no no ragazzi posso giocare a mario kart è fighissima sta cosa raga che c'è? comunque il tagano non l'abbiamo visto più il tagano ah il tagano è il pazzo si è ormai se n'è andato nel nostro libro no nienta non è che se n'è andato è semplicemente boh non hai soldi boh che ne so semplicemente non c'è più semplicemente vabbè però non capisco cosa serve con i miei mani perché siamo tornati mi si è bloccata la registrazione e io vorrei saltare ah si può saltare si può saltare almeno se per un millisecondo ma si può saltare canali e questo è un miracolo perché saremmo pronto non si è mai potuto saltare questo è molto bene quindi saltiamo qui saltiamo guarda con le cose a buca mamma roba no 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 ma quella tizia sta mi strabata ma quel tizio che sta facendo oh mio dio Alex forse se stai coso così non ti prende non ti prende cosa? ho paura no 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 ora ci scherzo con lui perché se non l'ho ucciso quel tipo perché dovrebbe uccidere me ah che bello ma che bello ma sei proprio simpatico lo sai ma guarda che bello guarda guarda come ci mette le mani no vabbè ma no ma non andate ma ci sono i bravo alipani però mi lascio in bacio però mi lascio in bacio l'altra volta abbiamo giocato a nascondino su buchemen e però non l'abbiamo registrato perché sono scemo e la registrazione non si è salvata perché voi video non li guardate e quindi forse chiudevo il canale io sono ancora più offeso voi mi avete detto che dovevo chiudere il canale io sono rimasto molto affeso da voi mi avete deluso veramente vabbè almeno io ho più scritti di te al minimo io ne ho solo tre mi avete deluso mi avete detto che dovevo chiudere il canale io ne ho cinque forse la maggior parte di questi due persone volevano che lo tenevo ancora e secondo me io ho cinque scritti solo perché i cinque cioè forse due o tre ma io sono fatti da solo con altri account quindi top e poi anche io lo chiudo perché non guardate i miei video cioè io dopo che tantissimo tempo a me lasciate solo like a me lasciate solo like e poi cambiate shorts vi guardate ninnematic xiao robbie geni a me dopo tantissimo tempo che non facevo video su stambulgass invece non mi caccate più cioè letteralmente zero visualizzazioni in tipo due mesi cioè ma com'è possibile deve essere anzi livelli di schifosità io ho perso purtroppo l'altro profilo e quindi questo ita top 3 e quindi forse chiudevo il canale ma se mi convincete lo lascio a perdere io voglio combattere sul box di roblox anche se roblox adesso comunque non ti lamentare se non guardano i tuoi shorts ma l'importante è che gli mettono like no su uno mi hanno messo un like ragazzi siamo a quasi 12 minuti di registrazione come è tante dai vi prego votate votate skip 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 dai uno uno perché non voti dai non ci sta questo sentire zitto picchio bis 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 prendo questa che caglia ok ho preso nel patebo una scatola perché quello ho facciato un profilo un cocomero tondo tondo disconnetto il profilo non mi ricorda niente skip uno uno due tre ita può succederci skip salta disconnetto comunque addio giallo forse cosa per aiutarti a scappare di qui ma quale quello ci aiuta ad ucciderci a non andare c'è neppure sono sorpreso che abbia la paura di non capisco nel palcoscenico alex sono morti la metà dei giocatori si c'è botta una bomba ho preso il profilo speriamo che si pristina serve qualcosa a dare dei colpi di telefono sulla cabina non mi frega niente perché e mica questo quello aiuta a risolvere anzi serve solo a peggiorarlo quasi ok ok ragazzi calmo se se avete sentito che io ho staccato la registrazione per un attimo e perché mia mamma ovviamente io sono mia cioè non ho così tanti acce io voglio fare youtube perché voglio rendere felici le persone cioè voglio 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 dargli un sorriso e dargli qualcosa da fare che molte volte anche persone come me che tipo non sanno cosa fare e quindi io pubblico video cioè pubblicare i video è la cosa più bella e poi anche far vedere che io sono cioè sono felice a registrare ma comunque io vi chiedo una domanda sono importanti i nostri canali oppure i canali degli altri youtuber tipo Robby eccedere ovviamente no non scherzo cioè sono davvero bravi non li sto offendendo sono bravi no ti prego ciao no 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 verde verde te ne vai tagli una sculacciata dai ma non posso passare ok quando quando dicono che i rainbow friends non sono infami fatevi vedere questo questo pezzo di video loro cambieranno idea cioè guardalo se è posizionato ma non posso passare ma lei vedi il mio scatole ho capito il mio di aghetto ah un tizio vuole fare l'olta e mi fico nel muro preparati ma tu sei su Roblox almeno cioè sei su Roblox sì sto giocando no lo sto facendo un altro gioco no vabbè mi ho abbandonato oh ma ti levi che era due ore che si levi a ballare oh vai muore 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 se ne sta andando vabbè stai andando con la parte sbagliata ma almeno te ne sei andate e io sono contento così perchè io non ti voglio in mezzo ai piedi cioè proprio sei che è un'offenza più schifoso brutta e orribile di tutti uno dei più conosciuti ma è più schifoso ecco le ho detto tutto le ho fesso ora se l'offesso quindi ora mi ammazzerà lo so qua come buco oh mio Dio faccio un passaggio segreto qui ah ci stiamo dispostando ah ah aiuto che vuole al percorso che vuole al percorso aiuto aiuto no 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 scappa 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 oh mio Dio ma che cavolo no 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 oh oh ma è qui e papà non mi pensa che mi stai spappolando proprio ok no c'è blu c'è blu c'è blu c'è blu c'è blu no Alex tu non hai idea cioè ormai non dico più ita top Alex letteralmente c'è c'è blu giallo tutti non ancora visto facciamo anche sto cosi lo tutta 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 si finalmente ragazzi ancora siamo a 16 minuti di video già il combattimento almeno box che gioco interessante con il nome è molto descrittivo molto abbiamo schippato una palla ma c'è una palla guarda ci sono tante palle guarda ci sono le palle guarda che belle le palle nelle parti basse no dai ma è bellissima sta cosa io diciamo un po li conosco perché ho visto un video dove un tizio li disegnava se vuoi dopo di punire nella mia mappa di box no 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 tanto ci metterò due anni a finire questo video infatti secondo me almeno un trenta minuti ci metto quindi ragazzi durerà quanto un film quanto la metà di un film tipo il video dell'ultima fancraft di lion molto belli non lo sto spammando non sto sponsorizzando niente ok non lo sto spammando quella che caga e non si ritrova più ho visto uno che gioco dalle insomma anche io quello che ho detto però sono intravoratissimo perché mi sa che il video lo facciamo finire qui perché se no ci mettiamo altri 40 minuti va bene ragazzi vi salutiamo ciao raga mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate tantissimi like a questo video e anche gli altri ciao